Schianto tra un'auto ed un camion nel tardo pomeriggio di martedì nella zona industriale di Castiglion-Fibocchi. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18. Tre le persone rimaste ferite, tra cui un bimbo di 4 anni che stava viaggiando in auto con la madre, le cui condizioni sarebbero gravi. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente, sia il camion che nello schianto si è ribaltato che l'auto sono finite fuori strada. Ad intervenire per primi sul posto sono stati i vigili del fuoco di Arezzo con un mezzo e cinque unità per estrarre i feriti, recuperare i mezzi incidentati e provvedere alla messa in sicurezza dell'area, sul posto anche sanitari del 118 di Arezzo e i carabinieri. Ci hanno chiamato perché c'è stato un frontale tra un camion e un'autovettura e il nostro lavoro è stato per estrarre il camionista e l'autista dell'autovettura. E erano tutti e tre intrappolati all'interno delle lamiere? Sì, c'era anche un bambino ma è stato già estratto dal 118. Si sono estratti sia quello del camion che la donna dell'autovettura, si è dato in consegna al 118 per le cure del caso. Il bimbo, residente alla Terine, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer per un trauma cranico ed altri traumi. La madre, una 34enne, è stata invece portata in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo per un trauma ai arti inferiori ed un trauma cranico. Anche il camionista, un 48enne del posto, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo per un trauma cranico ed un trauma toracico.